E il Signore disse loro, andate nel mondo e predicate il Vangelo a tutte le creature viventi. Ferreira è perduto per noi. Ha denunciato Dio in pubblico e rinnegato la fede. Non è possibile. Padre Ferreira ha rischiato la vita per diffondere la fede in Giappone. A me sembra che la nostra missione qui sia più urgente che mai. Dobbiamo andare a cercare Padre Ferreira. È quello che avete ambedue nei vostri cuori? Sì. Allora devo credere che sia Dio a ispirarvi. Dall'istante in cui metterete piede in quel paese, sarete in grave pericolo. Il prezzo della vostra gloria è la loro sofferenza. E' troppo pericoloso. Abbiamo chiesto a noi questa missione. Cadere il Vangelo a fianco, si chiara cheEdce hemi pericoloso. E' troppo pericoloso. Si chiara che o' questa mia assurena teletopile. Alla mia preghiera risponde il silenzio.